Ciao a tutti ragazzi, sono Kingslave Corporation e benvenuti su World of War. Continuiamo! Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corporation. Oggi come programma siamo tutto il tempo sul Nif Lime, per un po'. Dovevo sboccare tante cose, tantissime cose. Salve, buongiorno. Sul serio, attenti con quegli squarci del regno. Che busto è questo? Vi trovate all'entrata del laboratorio di Ivaldi, una testimonianza dell'ingegnosità nanica. Perché puzza così tanto? Schifoso, non è vero? È una lunga storia, ma è abbastanza semplice. Ivaldi ha messo il naso dove non doveva e voi ne state respirando le conseguenze. Ivaldi ha messo il regno di Ivaldi. 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 Evaldi. Ivaldi. Grazie a tutti 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 Quanto E qui Grazie a tutti 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 Grazie a tutti